Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza Vi ho tirati un tridente ed è tornato da me, mi sento contento, emano particelle E ho un tridente perfetto, è un casco fatto da un guscio di tartaruga ed è perfetto anche quello Ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta, ma ora mi rimane una cosa da fare A parte che qui vedete non ho la shulker rossa, queste qui non ho ancora avuto voglia di spostarle E la shulker rossa non c'è, l'ho lasciata nel land, mi sono scordato perché sono molto stupido apparentemente È notte e vabbè non mi interessa un gran che questa volta Perché quello che vorrei fare è cercare, cioè che poi cercare non posso, ma aspettare l'arrivo di una tempesta Devo dire che le tempeste non sono poi così rare con un po' di pazienza Ma Salve, ma cosa ci fa qui? Dicevo che vorrei attendere l'arrivo di una tempesta per poter scagliare dei fulmini con il tridente Finalmente è possibile evocare fulmini in Minecraft vanilla, ovviamente perché con i comandi già si poteva fare E li potrò tirare sui creeper per creare dei charged creeper Ragazzi, questa cosa è una figata pazzesca Una volta fatto ciò potremo anche utilizzare questi charged creeper per spawnare, spawnare, droppare le teste dei mob che ci mancano Allora, essenzialmente sono per ora qui sopra Abbiamo la testa del Wither, la testa del Drago, la testa del Creeper Che è la prima che abbiamo droppato con un charged creeper Ci mancano la testa da zombie e quella da scheletro E avremo completato la collezione di teste ottenibili all'interno di Minecraft vanilla Quella di Steve non si può ottenere in vanilla E possiamo inserirci volendo anche la zucca Forse sarebbe un po' forzata, però volendo si può fare Ora, per prepararci a ciò, oltre a dover attendere per forza di cose un temporale Dobbiamo fare un po' di cose Allora, nella nave ho ottenuto tramite la forma di pesca automatica Diversi nametag Quindi innanzitutto andiamo a prendere quelli Perché i nametag ci servono per salvare i creeper che andiamo a spawnare E in questo modo li possiamo preparare per poi appunto renderli carichi Tra l'altro anche qui ragazzi la faron di pesca ha prodotto una quantità immonda di oggetti Che non ho ancora smistato Qui abbiamo tre nametag E dovrebbero bastarci Quindi ci prendiamo intanto queste tre Ho solamente un livello Questo potrebbe essere un piccolo problema Perché devo avere almeno un livello per nametag E me ne servono due in realtà Quindi in realtà mi basta eliminare tipo questi qui Voi tirate d'arco? Io non ce l'ho più un arco per il momento Ma vi posso tirare questo Vi piace? Ti è piaciuto? Eh? E se ti attacco così ti piace? Stupido scheletro Ok diciamo che non toglie così tanto effettivamente Però non è affatto male Considerate che per esempio la spada che ha 10 di attacco Sì in realtà è solo un punto in più Quindi non ha molto senso Vabbè comunque sia Va anche detto che il tridente è più lento di una spada Perché ha velocità 1.1 la spada a 1.6 Quindi attacca più lentamente È paragonabile quasi a un'ascia Non fa così tanto male Però se lo lanciamo ragazzi Allora gli farà malissimo Soprattutto durante i temporali Quindi ragazzi Ho tenuto Non ho tenuto l'altro livello Mannaggia Beh lo posso ottenere semplicemente dalle fornaci Vediamo se c'è qualcosa da raccogliere No Andiamo a smeltare roba Avevo altri name tag pronti qui Vabbè poco male comunque Questi name tag ormai sono comunissimi Grazie alla falon di pesca Comunque ragazzi Andiamo a togliere appunto Questa pietra Che mi porta al livello 2 E in questo modo possiamo scendere al livello 0 Per la prima volta dopo un sacco di tempo credo Ma in compenso possiamo dare un nome a queste name tag Come le chiamiamo Non è che sia importante Quindi li possiamo chiamare Cristiano Al posto di creeper Inizia sempre con kree E l'altro lo chiamiamo Boh Cristoforo E rip Incudine Tra l'altro questo tartar shell è figo Ma tutte queste particelle dopo un po' scassano il cazzo Quindi non so se tenerlo sempre Ditemi anche voi nei commenti Secondo voi dovrei tenerlo sempre L'elmo di tartaruga Oppure solo quando vado sott'acqua E tenere di norma il teschio di blaze Non lo so Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate Comunque ora abbiamo queste due cose Ho bisogno di Blocchi vari Io direi a sto punto di prendere anche tranquillamente un po' di pietrisco da qui Che male non fa sicuramente Potrei aver bisogno di un altro bucket Quindi prendiamocela al volo E Tra l'altro dov'è il mio bucket? Perché non c'è? L'ho lasciato nella Nella shulker Nell'end mi sa Vabbè fa niente E poi andiamo a rifarci l'incudine Se no mi dimentico anche quella E non sono per niente Uno youtuber Professionale Detto ciò Direi che possiamo andare Alla farm di Charged Creeper Una farm ormai in disuso Perché come vi ho già spiegato Non ci serve più Perché abbiamo channeling Cioè l'abbiamo costruita E poi poco dopo hanno messo channeling E io ho detto Ah che bello L'abbiamo fatta per niente Comunque dobbiamo comunque sia Tornare lì Perché ci può fare molto comodo Per la creazione dei Charged Creeper Anche se con metodi diversi Ci serve assolutamente un temporale Speriamo che ne arrivi uno In tempi brevi Altrimenti Aspetterò nel mentre faccio altro E ragazzi Detto ciò Cerchiamo di ingabbiare Già preventivamente dei Creeper In modo da preparare la farm Al drop di test Ma innanzitutto Questa farm funziona ancora Perché non cadono I Creeperini Dove sono i Creeperini carissimi? Cioè Mi preoccupo un po' Se non cadono i Creeperini Sto laggando? Ho laggato forse? Perché questa cosa? Vuol dire che ci sono Delle entità magari intrappolate Da qualche parte Qua Qua sotto non ci sono entità Giusto? Ok E non lo so Strana come cosa Non ne sono ancora scese Quindi proviamo ad andare Sopra E cerchiamo di capire Se si è buggato qualcosa Perché potrebbe essere un disastro Non so bene Da che cosa dipenda Ma sta laggando quest'area Forse è dovuto Appunto una presenza Esagerata di entità O magari Redstone Non lo so Però ha tipo Quel lag Che avevo prima Di convertire il mondo Molto strano tutto ciò Non riesco neanche a volare Tent'è che sono caduto Nell'acqua Per fortuna che c'è acqua ovunque Perché Potevo farmi davvero Molto male E allora Ragazzi Piano B Torniamo a casa Io credo che Un Creeper Lo possiamo Catturare tranquillamente Volendo anche C'è abbiamo la farm Di Creeper Qui Quindi c'è vorrei dire Non è un grosso problema Ma possiamo anche Semplicemente Predisporre Delle buche Per dire Qui nella pianura E cercare di Ficcarci dentro I Creeper Durante la notte Intrappolarli E magari in qualche modo Utilizzarli Poi per droppare Le teste In modo da Non creare Casini Quindi potenzialmente Dobbiamo creare Delle buche Per Creeper Io direi di scavare Semplicemente Delle buche Giusto Profonde al giusto Tipo tre blocchi Anche larghe Tre blocchi Direi E poi ci facciamo Scendere dell'acqua In modo che Quando ci buttiamo Il Creeper Non sopisca Neanche un minimo Di danno da caduta E poi soprattutto Quando ipoteticamente Lo infiammeremo Con il fulmine Non andrà a fuoco E non morirà Ma riceverà solamente Il danno momentaneo Del fulmine Poi un'altra cella Lo facciamo tipo Qui Esempio Quindi sempre Un cubo Tre per tre Mettiamoci dell'acqua E direi che Possiamo aspettare L'arrivo della notte Per vedere spawnare Qualche mob Dopodiché Proveremo a catturarli Semplicemente Proveremo anche A rinominarli In modo da tenerli Fissi lì E appena avremo l'occasione Li infiammeremo Con un fulmine E li renderemo charged In modo poi Da droppare le teste Di uno scheletro E di uno zombie Ci sono un po' Di passi In questo processo Potrei fare tutto Potenzialmente In un video Ma ci serve Prima di aspettare la notte Di fare le catture Di avere gli spawn giusti E soprattutto Dobbiamo attendere la tempesta Quindi non sarà semplicissimo Ma ci si prova Ok ragazzi È arrivata la notte Me la stavo quasi perdendo Perché ero rimasto A FK Ad attendere Ma credo Che la luna Si è appena sorta Comunque da poco Dovremmo avere Il nostro tempo Insomma Allora Vediamo un po' Vedo già un creeper Qui ci sono degli zombie Allora Purtroppo in tutto ciò Il creeper Si è spostato Ora Cerchiamo di Tridentare Ok Lui Perfetto Baitiamo Baitiamo vicino Alla trappola Il creeper Ok Buttalo giù Merda Sto esplodendo È esploso Ok abbiamo fatto una cazzata Allora pure tu Muorici Ok L'ho buttato nel L'ho buttato nel buco Raga non ci credo È il buco sbagliato però È quello il problema Mentre qui È qui Dobbiamo correggere Tutta sta roba Ma non va bene Se anche mi cade qui dentro Può uscire Ok così dovrebbe andare Quindi avviciniamoci Buttato C'è L'abbiamo preso Yes Ottimo Non è proprio La La pozza che volevo fare Ma possiamo aggiustarla In qualche modo Lui Chigliamolo E in tutto ciò Sono spawnati Altri creeper Quindi cerchiamo Di attirarne uno Bene Mi ha aggrato Un creeper solo Ottimo Quindi Portiamolo vicino Alla vasca Dai vieni Appena si avvicina Ragazzi Lo buttiamo Dentro E scappiamo Ok preso Perfetto Abbiamo i due creeper In teoria Ora se gli altri Non rompono le scatole Un attimo Possiamo anche Dargli i nomi Vai No non esplodere Cristiano Non ora Ottimo E Cristoforo È un pochino Più difficile da gestire Probabilmente Vai Merda Riesco a dargli i nomi Yes Non è esploso Perfetto Li abbiamo salvati Molto molto bene Non è stato semplice Non ci siamo presi Sti due creeper Ora Quello che dovrei Fare Idealmente È tappare Il buco che ha fatto Quell'esplosione Il creeper di prima Perché abbiamo bisogno Di una pozza Bella Pulita E bella Precisa Quindi La pozza 3x3 Andava più che bene Ragazzi Fatto ciò Ci rimane Appunto L'attesa Per la tempesta Perché Ora Catturare uno zombie E uno scheletro E uno scheletro Sarebbe Fattibile Ma non ha senso Perché non ho voglia Di rinominarli In quel caso E in ogni caso Devo anche Lanciare il fulmine Sul creeper Quindi Se lo catturasse adesso Uno zombie E uno scheletro Poi li danneggerei In quel tentativo E non è positiva La cosa Non ci rimane che Aspettare il temporale Ragazzi Ora Un po' di fortuna Non guasterebbe per una volta Se si mettesse a Tuonare subito Ma non credo che sia così Quindi Andiamo in casa E aspetterò Pazientemente Resto a fk Con le cuffie Così Appena si metta a piovere Sentirò Ok ragazzi Apparentemente Si è messo a piovere E mi stavo chiedendo È pioggia o temporale Ma giudicare da quello Mi sa che è temporale Quindi ci siamo Possiamo Oddio Possiamo castare i fulmini Oh Cioè sto Davvero realizzando Quello che sta per succedere Ora Potrebbe essere un po' pericoloso Perché mettiamo caso che Non so C'è un bellissimo ragno Sopra Il mio faro Io dico Adesso lo uccido con un fulmine Il fulmine potrebbe dare fuoco A tutto il faro Quindi in realtà È un potere Forte Ma che va controllato Con calma Cioè ci mancherebbe altro Potrebbe sembrare Un'abilità OP Però effettivamente Non sono così comuni I I temporali Anzi Ho dovuto aspettare un bel po' Sinceramente Quindi Non è che Che sarà una cosa davvero così OP E io vorrei attaccare questo zombie Ma ho paura A scagliare il fulmine Da troppo vicino Quindi cosa facciamo Avvicinatevi voi Ok Vado Mamma mia ragazzi Non l'ho chillato eh Non l'ho chillato Però è stato fighissimo Adesso però dobbiamo anche spegnere il focus No Ah no Si è spento da solo Ottimo Perché sennò potrebbe diventare complicato Ma non è tempo Di fare Gli stupidi Quindi Mi ha appena colpito Ah uno scheletro Credo Vabbè Andiamo dai nostri creeperini E ovviamente Cassiamoli i fulmine Perché in questo modo Riusciremo A creare I charged creeper Ragazzi Creare i charged creeper Cosa significa? Significa che poi Potremo droppare anche le teste Ragazzi Lo dobbiamo fare con molta cautela Devono essere in acqua In modo da Non morire Di danno da fuoco Questo è importantissimo Anche se abbiamo visto che Mio dio Quanti mob però Dicevo Abbiamo visto che In realtà Non Non si muore Di danno da fuoco A quanto pare Perché tipo lo zombie Non era morto Ora Andiamo a Prendere La mira Riuscirò a prenderlo Proviamo Vai Non l'ho preso Ok Devo stare un po' più su Così Andiamo Vado L'ho preso ma non ha cassato Non ha cassato What? Ma perché? Ok Sta cosa È strana forte Perché Cioè io in teoria Ma l'ho ucciso Perché non mi ha cassato Il fulmine sul creeper What? Raga Che cazzo succede? Non funziona? Ma stai scherzando? Ma stiamo scherzando? Trovami Allora Lì c'è un creeper in giro Ma Cioè Davvero mi stai dicendo ciò? Davvero mi stai dicendo questa cosa? Cioè Se io gli tiro il fulmine Ok Ok L'ho preso Perché non funzionava? Perché forse era sottoterra Quindi questa cosa non gli piaceva Allora proviamo A portare ora Il creeper Là sotto Sarà un po' più difficile Salve signor creeper Può seguirmi? Con molta calma Perché se lei mi esplode Qui è un po' problematica la faccenda Non è come prima Che insomma C'è tipo Non faceva così male Un'esplosione di creeper Prima Ok Quindi Raga pesa un botto No l'ho ucciso L'ho ucciso Sono un cretino Sono un cretino Perché L'ho shottato Non avrei dovuto farlo mai nella vita Allora Ci serve questo Ci serve questo creeper Dai creeper vieni Vieni No 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 così vicino Maledetti Please Please Ascoltami Seguimi Seguimi Provo Raga no Non ce l'ho fatta Che cazzo di casino Stiamo combinando Allora ci serve un altro creeper No Ha smesso di piovere Non ci credo raga Eh Non era facile Non era fa Ma tu sei ancora in vita Ma stiamo scherzando Ma sei Sei quello di prima no Non ha il nome Ah si è cristiano No cristiano Non esplode pure tu però Che cazzo È successo qualcosa di inaspettato Effettivamente Perché Praticamente Il fulmine non colpiva Il creeper nel buco In realtà il creeper era A cielo aperto È ovvio che Il fulmine per colpire Deve scendere dal cielo E colpire Non può andare sotto terra Ma il fatto che Non abbia colpito il creeper Che era in una fossa A cielo aperto È strano È davvero strano A meno che L'acqua Spingendo il creeper Troppo lateralmente Lo fa un po' Compenetrare nel blocco E quindi veniva calcolato Come Sottoterra Non so se può avere senso Ma è l'unica cosa che Mi Mi dà una spiegazione Al momento Dovrei fare dei test In In un mondo in creative Eh Solo che ormai è troppo tardi Abbiamo perso il temporale E ragazzi Non credo sia fattibile Trovarne un altro a breve Quindi Mi sa che questa volta Balza Mi dispi un sacco però Vabbè ragazzi C'è di buono che Abbiamo castato I nostri primi fulmini È stato davvero Emozionante E spaventoso Perché Metti che te ne tiri uno Addosso Cioè devi farti davvero Male cane A parte che io sono stato Colpito da un fulmine Nella serie Ed è stato Abbastanza Peculiare Oltre a ciò Abbiamo anche Notato che Abbiamo anche già detto Scusate Che se tirassimo Un fulmine Nel punto sbagliato Il fuoco Che ne sprigionerebbe Potrebbe dare fuoco Alle mie strutture Potrebbe essere Qualcosa di davvero brutto Quindi bisogna Dosare molto la cosa E diciamo che Durante le tempeste Il tridente diventa Pi OP Ma meno controllabile Quindi è molto Bilanciata la cosa Comunque ragazzi Detto ciò Con un piccolo fallimento Questa volta Ma abbiamo capito Come fare Quindi la prossima volta Saremo molto più preparati Io direi che ci salutiamo Ci vediamo molto presto Con altri video Un saluto da Iron Blitz Ciao a tutti Ciao a tutti